e prendi l'aria ragazzi bisogna schiacciarla sta pallina consistenza e ma veramente e certo veramente per giocare sotto i 90 ragazzi per giocare sotto il 90 una delle cose importanti per il gioco dei ferri è sicuramente la consistenza quindi andare a colpire bene la palla per colpire bene la palla servono determinate caratteristiche quindi ale oggi se ne spiegherà un paio di drill per migliorare il vostro impatto sulla palla si esatto come dice paolo è fondamentale la compressione della palla l'impatto quindi come si fa la compressione primo di semplice allora prendete il vostro bastone lo posizionate con il braccio destro che va sotto il grip mettetelo all'altezza delle spalle fate il vostro backswing ok nel dancing prima parte il ginocchio sinistro i fianchi poi ruotano i fianchi e poi le spalle sentite che la spalla sinistra va all'impatto vedete come la faccia del bastone rimane square dritta perfetta in corrispondenza con la spalla destra questo è un ottimo drill da fare diciamo prima di ogni colpo di pratica un pre routine questi belli ruotati all'impatto se invece poi volete sentire il contatto solido con la palla c'è un altro deal bellissimo che è questo pallina potete metterla anche sul t non c'è problema davanti a voi a una spalla mettete il t ok lo inclinate come lo inclinate in avanti di 45 gradi verso la pallina e cosa dovete sentire dovete sentire che colpite la palla e anche il t in avanti lo schiacciate giù nel terreno ve lo faccio vedere grande colpo fa la zona l'avete visto che la zona è partita 10 cm dopo la palla e quindi è un impatto perfetto maggiore compressione quindi questi due esercizi da fare assolutamente in campo pratica assolutamente miglioriamo la compressione miglioriamo lo smash factor la palla parte più forte fate più distanza e mantiene anche molto meglio la la direzione e lo spin per aria ragazzi se volete giocare sotto i 90 perfetto